Presentato alla Sala della Vaccare di Perugia il progetto Live in Umbria da parte di Latano Reventi. Stefano Porri. Sì, questa mattina è stato presentato appunto Live in Umbria, questo nuovo contenitore, un brand che si prefigge di raccordare tutta una serie di eventi di qualità che spaziano dai grandi eventi musicali alla danza, alla musica su tutto il territorio umbro, per cui dalla provincia di Terni fino a Perugia. Un brand che deve avere anche la capacità di esportare il buon vivere, la qualità della vita anche dal punto di vista dello spettacolo dal vivo fuori dalla regione. È una provocazione, ma una provocazione anche intelligente, perché è anche una provocazione ambiziosa, perché si prefigge anche di esportare, sì, qualità della vita fuori dalla regione, ma in un particolare momento, come quello che stiamo vivendo in questo momento nella nostra regione, è particolarmente difficile, con tutta l'opinione pubblica che viene continuamente impaurita del sisma umbro, che in realtà ha colpito soltanto una parte ben circoscritta della regione e che sta comunque mettendo in difficoltà tutti gli operatori turistici e culturali, chiaramente. Per cui Live in Umbria raccorda tutta una serie di eventi di qualità in un unico contenitore in tutta la regione e esportare questo contenitore fuori regione. Si partirà appunto in questo mese con Perugia, con Carmen Consoli e successivamente Enrico Ruggeri al Teatro Morlacchi, a Spoleto invece al Teatro Menotti con il Lago dei Cigni di Tchaikovsky, portato in scena dalla importante compagnia nazionale di Raffaele Paganini, per continuare ad aprile con il debutto nazionale di Alkemaia, il nuovo progetto musicale di Max Gazze, e infine con la nuova e rinomata stagione, rinata stagione al Teatro Spazio Fabbrica, completamente ristrutturato attraverso la collaborazione e l'intervento dell'Atanor insieme alla regione Umbria con il PUC3, uno spazio di circa quasi 200 posti all'interno di una ex fabbrica di lampadene completamente riqualificata attraverso appunto questo intervento di archeologia industriale che diventa un nuovo spazio ridato all'Umbria. Quindi parallelamente è stato presentato anche Spazio Fabbrica e ne parliamo Stefano, se mi permetti, con Cristina Candiani che è il direttore di questo splendido teatro. Spazio Fabbrica è appunto questo piccolo teatrino di 175 posti, adesso rinata una nuova vita con la ristrutturazione, che riaprirà il 19, inaugura la stagione il 19 febbraio con l'ultima produzione con la protagonista Barbara De Rossi, Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, Il bacio, un testo di un belga, appunto siamo sempre nella drammaturgia contemporanea perché la caratteristica di Spazio Fabbrica è quella di rivolgersi preeminentemente a compagnie che hanno intenzione di investire sulla nuova drammaturgia, cioè sulla drammaturgia contemporanea, comica, brillante o meno brillante, ma sicuramente nuovi autori e spazio anche a nuovi attori. Proseguiremo il 12 marzo infatti con Emanuela Grimalda, Le difettose, anche questo un testo scritto diciamo a quattro mani, e poi andremo avanti il 26 marzo con Insieme a te non ci sto più, un testo di Adriano Bendicelli, con in scena vedremo Matteo Vacca, Marco Morandi, Francesca Milani e altri due attrici. Finiremo il 9 aprile con un concerto sempre in beneficenza per i borghi terremotati dell'Umbria, quindi una band regionale che ci offrirà questo concerto e faremo questa raccolta da destinare ai borghi terremotati. Quindi sono quattro eventi quest'anno perché abbiamo ristrutturato il teatro e quindi abbiamo fatto una stagione un po' più concentrata, però stiamo ricevendo ancora molte adesioni. Invece per quello che riguarda i biglietti, la biglietteria, posso dare questo annuncio di servizio, la biglietteria di tutti gli altri eventi, insomma da Carmen Consoli a Ruggeri, a Max Gazzee, a Lago dei Cigni, e noi potete acquistarli tutti su www.chettitalia.com. Attano Reventi da 20 anni, possiamo dire, comincia a essere un po' leader nel settore, no Stefano? Noi ci conosciamo da tempi non sospetti, abbiamo collaborato insieme in tanti tanti eventi, in particolar modo mi ricordo quando avevate anche la direzione artistica a Todi, no? Sì, nel Todi Festival, sì, infatti mi ricordo molto bene. Vogliamo ricordare magari tanti eventi che abbiamo fatto in questi 20 anni? Massimo Ragneri, no? Massimo Ragneri, poi di tu. In quegli anni se ne facevano tantissimi, tra stagioni teatrali di prosa, musica estiva, i grandi eventi musicali, ma mi vengono in mente gli ultimi anni, da Lucio Dalla, Antonello Venditti. Per quanto riguarda il musicale, però anche a livello teatrale, io mi ricordo che avete fatto tanti di quei spettacoli. Il musicale non ricordo più quanti li abbiamo realizzati, ricordo quelli che abbiamo prodotto, perché sono quelli che chiaramente quando li produci ci metti un sacco di soldi e devi girare tanto in tournere. L'ultimo l'abbiamo prodotto due anni fa, appunto con Giancarlo Giannini, abbiamo scorrazzato un pochino per i vari teatri italiani, con omaggio a Massimo Troisi, prodotto appunto dal gruppo Atanore Venti, ma in vent'anni non ho mai quantificato i numerosi spettacoli di prosa realizzati in vari teatri, in tutto il centro d'Italia, dal Daviterbo fino a Macerata, per cui tanti, veramente tanti. Cristina, concludiamo con te? Magari invitano anche il sindaco di Lugnano in Teverina, che era impegnato con altri colleghi, Stefano, Cristina, se cortesemente ce l'ho presentato ai telespettatori, scogliamo l'occasione. Ecco, il sindaco di Lugnano in Teverina, Giancarlo Di Berti. Piacere, grazie a tutti, sono onorato e orgoglioso di fare parte di questa squadra di Live in Umbria e vi aspetto a Lugnano in Teverina, allo spazio fabbrica, per i nostri spettacoli teatrali organizzati, posso dire alla grande, da Atanore Venti. Facciamo una conclusione qui dalla Sala della Baccara di Perugia, dall'Atanore Venti, un appuntamento? Un appuntamento, un appuntamento? Un appuntamento per i prossimi mesi, per la stagione primaverile ed estiva, no? Sì, vi aspettiamo qui a Perugia innanzitutto e poi vi aspettiamo a Spoleto e vi aspettiamo a Lugnano in Teverina.